Porto Juventus 0-02, risultato giusto, decisamente giusto, dominio dall'inizio alla fine, al 25 giugno del primo tempo siamo andati in subito in unità numerica per un'espulsione sacrosanta, loro praticamente non hanno fatto altro che legnare come dei falegnani e protestavano pure, nel complesso si sono dissolti sotto le granate bianco-nere, numero e nevorevoli di occasioni a nostro favore, diciamo, c'è stata anche un po' di sfiga, un po' di sfortuna, diciamo, poi tra il 72 e il 74, 1-2 Micidiale, piazza Dani Alves, che ha chiuso la partita, forse anche la qualificazione, speriamo. Dani Alves mi ha ascoltato, è questo Dani Alves che intendevo io, non quello che canta che canta su Instagram, canta un po' di meno e corri di più che poi vedi che i risultati si vedono, non poteva essersi impippato di colpo, mi sarei preoccupato, niente dico, per il resto abbiamo difensivamente eletto molto bene, a centrocampo anche, niente dico, vamos, forza Juve, grandissima vittoria, grandissima vittoria, a un certo punto dico, lo stadio dico, dott. Ragao si è anche avuto l'unico, dico, non pischiavano neanche più i cari portoghese, e niente dico, alla prossima, forza Juve, e un abbraccio a tutti, ciao 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 ciao.